Oggi vi presento brevemente quello che è il premio Angela Finita, che è un bando di concorso europeo, bandito da Sapa e patrocinato dalla fondazione Angela Finita. È un concorso europeo da 22.000 euro, cioè con tre borse di studio, una da 10, una da 7, una da 5.000 euro e la possibilità di ottenere un posto di lavoro in Sapa. Abbiamo coinvolto sette stati europei, tra i più grandi l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania, 70 tra le università più prestigiose d'Europa, 2.500 professori e rettori di tutte le università europee, 200 professori fino ad oggi hanno risposto alla nostra call to action per questo bando. Il video di presentazione di questo bando ha ricevuto 30.000 visualizzazioni nell'arco di pochissimo tempo e quindi ne siamo stati molto molto contenti. E per partecipare al bando www.premioaffinita.it Che questo bando di concorso sia in realtà un trampolino di lancio, no? Per saltare in alto e poter saltare verso quello che sognate di più bello per voi e per il vostro futuro.